ciao trader siete su scapino bull allora appena fatto questo video molto interessante perché stiamo parlando di glmr il pazzo di oggi il cavallo pazzo di oggi più 36 per cento ma il daily è potentissimo quindi veramente fatto dei movimenti pazzeschi questa linea sono i nuovi massimi di oggi è il secondo tocco e poi andato su ho fatto solo conformazione poi c'è questo bellissima candela rossa che non dice ma che cos'è cos'è che succede bene è uno che ha fretta ok era un pezzo di forse anche 2 milioni perché quando è arrivato a 15 quindi praticamente da qua è andato da 16 a 15 ed è rimasto più di un milione qua ok che sta facendo da tappo quindi ha fatto tutta questa candelona vi faccio capire come fare trading su sta roba ovviamente voi questo è solo per mega esperti ok e adesso capirete perché è solo per mega esperti è molto difficile bisogna saper leggere benissimo il book benissimo il grafico ma soprattutto bisogna avere una grande sensibilità non che grande velocità ma vedrete quindi partiamo quindi questo era oltre un milione ma era un milione sarà andato via solo nella discesa quindi una che ha fretta di vendere due milioni velocemente fa così quindi fa un prezzo a sconto ok quindi io sono in stop limit a questo prezzo qua con 10 mila dollari clicco per entrare niente non me lo dà rimango senza niente ho cliccato troppo tardi ok perché io praticamente ho aspettato che si mangiasse ok non potevo fare uno stop limit perché questo poteva essere un muro che si muove ok perché se non veniva mangiato ma ci andavano delle persone davanti quindi il prezzo scendeva questo si sarebbe mosso e andato giù io speravo facesse quello non l'ha fatto veniva mangiato io ho cliccato un po' troppo tardi e non sono riuscito a fare l'eseguito ok avessi fatto l'eseguito ok io ero qua avessi fatto l'eseguito sarei andato chiudere non subito perché avrei guardato se perché tendenzialmente quando fa queste cose spike ok ma deve farlo subito nel caso in cui non lo fa subito vuol dire che c'è voglia di vendere ancora quindi bisogna chiudere oppure nel mio caso che sono dentro devo togliermi ok quindi quando rompe una roba del genere che fa un spike a dismisura così deve subito accelerare rialzo vedi ho già tolto avete visto ho già tolto l'ordine ho già tolto l'ordine appena ho visto che non è noto a spikeare ok avrei dovuto chiudere qua avrei fatto il guadagno ma comunque poteva fare di più solitamente in queste operazioni qua schizza di più quindi mi tolgo e vedo cosa succede perché dovrebbe tornare a crollare adesso sta ancora andando su però io non mi sto affidando ovviamente non faccio io l'ingresso ecco adesso inizio col rosso inizionare vari pezzi qua c'è il muro ma viene mangiato ecco arrivano i pezzi di nuovo 15 arriva 80 mila e scende crolla ok guardate qua qua c'è un bel muro se andate a mangiare attenzione guardiamo in denaro in lettera non ci sono i muri arriviamo in denaro ok sta per finire arrivano i muri arrivano i muri significa che basta non ne vogliono più quindi faccio l'ingresso ok avete capito questo no faccio vedere prima di fare il mio ingresso aspetto che ecco allora qua fa a mangiarsi sotto ok io guardo che qua si inseriscono dei muri quindi delle quantità grosse ecco adesso ce l'abbiamo adesso abbiamo un supporto che prima aveva mangiato ok adesso è bello grosso e quindi io qua qua non c'è niente di interessante quindi vado a cliccare sul prezzo ho cliccato sul prezzo controllo qua che rimangono questi supporti e poi vado a fare l'acquisto ok è un eseguito parziale metto 10.000 viene un eseguito parziale quasi 6.000 tengo lì per vedere se mi viene comprato vedi io sono qua col puntino giallo mi vanno sopra controllo che qua non arrivano pezzi grossi e inizia a rimbalzare ok e qua entrano pezzi grandi e qua non c'è ancora nulla c'è ancora nulla controllo vado a vedere quant'è il percentuale per trovare un target frattempo ecco adesso che inizia a scendere devo controllare il denaro che ci siano i miei miei livelli per uscire ok a questo punto dico tolgo il mio ingresso quello rimanente perché se torna giù io devo chiudere non devo continuare a comprare quindi adesso deve solo salire se va giù il mio stop è a zero ok o qualcosa del genere appena io percepisco debolezza o voglia di scendere ancora io vendo ok il massimo che posso portare è lo zero quindi tolgo l'ordine perché sennò mi troverai ad acquistare ancora andiamo avanti controllo il book controllo i livelli guardo dove sono vedo che non c'è granché in denaro vedi arrivano sono arrivati ne arrivano i supporti nel frattempo guardo le percentuali vedo dove è il 2 per cento guardo nel book c'è inserito avete visto sono già nel book ovviamente tutto velocemente ma qua è l'esperienza ragazzi ok per questo non dovete farlo poi controllo denaro arriva vedi arrivano i livelli arrivano i livelli vedi sto quasi arrivando arrivano i livelli l'ultimo livello prima del mio del mio della mia uscita arriva un altro muro che dovrebbe riuscire a portarmi a target ok qua c'è un altro muro un altro muro ancora quindi abbiamo le corazzate e arriviamo a target ecco arriviamo a target ok capite la grande difficoltà e velocità che ci vuole per fare questo tipo di eseguiti quindi non lo dovete fare se non siete esperti ok qua faccio vedere vedi l'eseguito parziale su 10.000 sono stato eseguito 9.000 e 5.000 e 9 e ho chiuso a 6.027 sono 111 USDT ovviamente quantità era quasi metà size comunque un 2 per cento così però il ragionamento è questo ok che diceva è follia fate queste cose qua non c'era neanche lema come supporto c'è il book ok ma si fa quando c'è questi pezzi giganteschi quando ci sono questi pezzi giganteschi che non sono altro che persone che hanno velocemente bisogno di vendere ok questo è un straguadagno non mi frega niente quindi va dice ok viene io voglio vendere 2 milioni di dollari come faccio li do sconto a tutti quindi li metto a 15 e vediamo se me lo vendono altrimenti ci avrò messo un mese se lo faceva vedere non vendeva lui il prezzo che lo aveva basta invece così ha fatto il muro quindi questi sono da sfruttare per gli esperti dopo che avete esperienza queste cose sono da sfruttare poi spesso cosa succede che questo non viene neanche comprato perché ci si mettono davanti quindi il prezzo continua a scendere e questo non viene venduto quindi lui cosa fa lo toglie e scende ancora di prezzo quindi è fantastica dopo si può comprare con un ulteriore sconto ok riguardatelo tante volte questo video non adesso che magari state imparando ma piano piano vedete cercate di osservare queste cose poi tornate a vedere il video ok coglierete sfumature diverse capirete che cos'è lo scalping ciao ragazzi iscrivetevi a youtube siamo 9000 abbiamo superato i 9000 su youtube due profili su telegram e discord il gardaland del trading è discord ciao